Didielle Zan, il tema è caldo in queste ore, sull'argomento interviene anche la consigliera di parità della provincia di Belluno. L'obiettivo è quello di sensibilizzare cittadini e amministrazioni sull'importanza della lotta a ogni tipo di violenza, contrastando non solo l'omofobia, ma anche l'odio verso le persone più deboli. Sono 25 anni che si tenta di approvare una legge apposita, commenta Flavia Monego, ora è giunto il momento di agire. Si dovrebbe mettere un po' da parte l'appartenenza politica e si dovrebbe veramente usare il buonsenso. Tutelare tutti e tutte, quindi senza distinzione, senza discriminazione. Con il sindacato ho sottoscritto un impegno che impegna il sindacato a fare dei corsi di formazione nei luoghi di lavoro ai rappresentanti sindacali, proprio perché siano vigili per intercettare qualsiasi tipo di discriminazione, quindi anche di orientamento sessuale, etnico, religioso, di genere, e lo segnali. A farle eco Giorgia Licastri, assessore alle pari opportunità del Comune di Feltre, e Lucia Pellegrini che nella giunta bellunese si occupa di politiche sociali. I due comuni sono gli unici nel nostro territorio a far parte della rete Ready contro le discriminazioni. Il disegno di legge in discussione al Senato è l'occasione per promuovere l'istituzione di commissioni per le pari opportunità. L'idea era quella di adottare un regolamento che sia in linea con i tempi, che apra le vedute, che sia inclusivo, che riguardi tutte le discriminazioni, non solo quelle uomo o donna. Come commissione per le opportunità, sia a Feltre, ma credo in tutte le commissioni del resto d'Italia, ci stiamo impegnando tanto per parlare di diritti. Quando si parla di diritti, si parla veramente di educazione, di educazione civica, di contrasto alla violenza, che in questo periodo è realmente dilagante. Stiamo collaborando anche con gli insegnanti, stiamo collaborando anche con altri enti. È il nostro dovere.